Ragazzi, buona giornata a tutti. Allora, innanzitutto, ovviamente come sempre, mi raccomando, mettete mi piace al video, soprattutto a questo tipo di video, perché oggi sicuramente farò poche visualizzazioni con questo video qua. Non ce la metto già via, perché oggi parleremo di tattica, parleremo di calcio, veramente di calcio, e parleremo di una squadra che non è la Juventus. Una squadra che ci sta anche sulle balle, sicuramente, una tifoseria più che una squadra, però ci tenevo a fare un discorso un po' più calcistico oggi. Nel senso che io delle squadre, al di là della Juventus, che ho visto di più su tre partite, ho visto due partite del Napoli praticamente, mentre ho visto la Juve e ho visto a tratti l'Inter, però, cioè, l'ho vista squadra solida, l'ho vista una squadra molto organizzata, l'ho vista una squadra più che altro consapevole di propri mezzi, a differenza dell'anno scorso in Italia, ed è per questo che mi pare più favorita quest'anno, anche se anche l'anno scorso era favorita, secondo me, perché ha tre anni di fila, anzi, ha quattro anni dal primo squadetto di Conte, che, dall'unico squadetto di Conte con l'Inter, che l'Inter ha la squadra più forte del campionato. Quindi, per me, Simoninzaghi ha già fallito sotto questo aspetto, però andiamo ad analizzare una squadra che, diciamo, ha ricevuto un po' di critiche in questo inizio di stagione. Appena vista la prima partita, non mi dava la sensazione di essere lo stesso Napoli, a livello sia di atteggiamento, sia di sicurezze, sia soprattutto anche tattico. Allora, allora, guardiamo oggi, guardiamo, la differenza tra il Napoli di Spalletti e il Napoli di Ludigarsia in queste prime tre partite, ovviamente, perché poi la differenza generale, globale, la bisognerà fare, bisognerà valutarla a fine stagione, ovviamente, quando almeno Ludigarsia avrà fatto un anno completo, se ci arriverà l'anno, però, staremo a vedere. Allora, 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 andiamo a vedere il Napoli di Sarri, ok? Allora, tralasciando che aveva Kim al posto di Juan Jesus, quindi mettete Kim, mettete lui, insomma. Però, al di là del giocatore, che sicuramente Kim è nettamente più forte di Juan Jesus, però, come impostava l'anno scorso in Napoli? Allora, Lobotka non scendeva quasi mai tra i due difensori centrali. Prima cosa. E, in fase di possesso, il Napoli impostava con un 4-2-3-1, con Zelischi, che si andava a posizionare sulla tre quarti, praticamente quasi subito, ok? Qua, al posto di Oliveira, c'era Mario Rui, molte volte c'era Mario Rui, quindi... La differenza era anche questa, se vogliamo dirla. C'era Mario Rui, ok? Con Di Lorenzo, che comunque si spostava a livello dei tre, dei due centrocampisti, Lobotka anche sa. Che però, 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 va detto, Mario Rui ogni tanto si spostava, ogni tanto rimaneva bloccato. Quindi, la maggior parte delle volte impostavano a 3 dietro, con Mario Rui comunque che rimaneva largo. Però, che, cioè, a volte si spingeva, ma quando la fase, cioè, eravamo già sulla fase dello sviluppo dell'azione o della finalizzazione dell'azione. All'inizio dell'azione, Mario Rui rimaneva bloccato, Di Lorenzo spingeva. Entrava dentro al campo, sì, però quello che ho notato rispetto a queste prime tre giornate di questa nuova era di Luigi Garcia, è che Politano, o chi per esso, Lozano, o chi per esso, lasciava più spazio di Lorenzo, e Di Lorenzo faceva più sovrapposizioni. Ok, però, comunque, in fase di possesso era, così, era, diciamo, un 4-2-3-1, ok? Diciamo un 4-2-3-1, e in fase dello sviluppo dell'azione passava a punto, perché Mario Rui rimaneva bloccato molte volte, ma poteva avanzare, insomma, qua i numeri cambiano, però, ricordiamo che è un calcio, a parte quello di Allegri, però è un calcio molto dinamico, ok? Quindi, i moduli, i numeri cambiano, diciamo, da un minuto all'altro, quindi, qua potete mettere difesa 3 o difesa 2 con, appunto, Di Lorenzo e Mario Rui che si alzavano sul livello di centrocampisti, ok? Con, appunto, Zielinski, Politano e Kvaraskela che praticamente giocavano alle spalle di Oshman, poi c'era Politano e Kvaraskela a livello di Oshman, mettetela come volete anche qua, però Zielinski, quello che conta, è che giocava, e poi vedremo, gioca sulla tre quarti, perché comunque è il suo ruolo naturale, diciamo, in fase di finalizzazione dell'azione, della sua recuperazione, insomma, mettetela come volete. Questa era, diciamo, il Napoli di Garcià, scurati di Spalletti, ok? Con Kvaraskela che comunque giocava più largo, e i due stenni di attacco facevano gli stenni di attacco, anche se, ripeto, Politano giocava un po' più, o Politano-Lozzano, perché poi giocava, però Politano ha preso il suo provvento di Lozzano l'anno scorso, a un certo punto della stagione, e si vedevano più sulla posizione a destra di Di Lorenzo, giocava, tra virgolette, meno dentro il campo e più sull'esterno l'anno scorso di Lorenzo. Secondo me, perché poi voglio anche sapere, diciamo, l'opinione dei Napoletani, questo sicuramente, poi in fase di non possesso, invece, era così, Di Lorenzo e Mario Lui si abbassavano, ovviamente, Lobotka, Anghissà e Zelischi, era un vero e proprio 4-3-3. Kvaraskela e Politano raramente si abbassavano a livello dei centrocampisti, rimanevano molto alti, il pressing era ultra-offensivo, era molto offensivo il pressing, comunque, il baricentro era alto di Spalletti, era alto, la difesa giocava poco più avanti della 3-4, quindi, quando pressava in avanti, quindi questo era il Napoli di, appunto, Spalletti, ok? Adesso, se riusciamo un attimo a ritrovare Oliveira, sarebbe già una cosa buona, ok? Allora, ripeto, l'anno scorso c'era Kim, comunque, che era un difensore forte e va bene. Mentre, mentre, col Napoli di Rudy Garcia, ok? Allora, fase di possesso, iniziazione, iniziazione. Come imposta il Napoli in iniziazione? Ripeto, per quello che ho visto io, perché poi il calcio è sindacabile. Lobotka si abbassa tra i due centrali. Il Napoli, in fase di possesso a iniziazione, inizia l'azione con un 3-4-3, perché poi Oliveira, i due terzini di Lorenzo Oliveira, si alzano a livello dei centrocampisti, che in questo momento qua, i due mediani, praticamente, sono Anghisa e Zielinski, con Politano, Ozyman e Kvaraskela davanti. Questo è inizio azione. Poi, durante lo sviluppo dell'azione, invece, Lobotka avanza, ma avanzano anche Zielinski e Anghisa, anche se qua bisogna dire che poi avanzano anche i due terzini, Oliveira e Di Lorenzo, e poi Politano e Kvaraskela a livello di Ozyman, ok? Bisogna dire, però, che qua, per quanto riguarda il centrocampo, Anghisa sta sempre una metà via tra Lobotka e Zielinski, sta un po' più arretrato di Zielinski e un po' più avanzato di Lobotka. Quello che aggira ancora, comunque, sulle tre quarti, è e rimane Zielinski. Poi, appunto, come vi dicevo prima, non è più Politano entra poco dentro il campo, diciamo. Quello che entra molto di più dentro il campo e che, diciamo, lavora come lavora Salah al Liverpool, faccio un esempio, è Kvaraskela. Kvaraskela gioca molto vicino a Ozymane. In queste prime tre partite, almeno, è stato così. Kvaraskela gioca molto vicino a Ozymane nello sviluppo dell'azione, ok? Quasi come se fosse una seconda punta, tant'è che nel primo tempo contro Lazio hanno fraseggiato molto bene. Poi la Lazio ha capito la situazione, ha creato più densità tra loro due ed è stata molto più corta, molto più organizzata anche nel secondo tempo e hanno trovato poco spazio. Il problema di Ludigar S.A. è questo, che non ha trovato un piano B, secondo me. E questo, comunque, questo lavoro qua, secondo me, vorrebbe, perché qualcuno mi ha parlato di due terzini che giocano... Allora, quello che fa Di Lorenzo non lo fa Oliveira, perché Di Lorenzo, ripeto, appunto perché Pulitano sta più largo, Di Lorenzo l'ho visto fare poche sovrapposizioni ed entrare più dentro il campo, ok? Gioca comunque il pallone dentro il campo. Oliveira, invece, non entra dentro il campo, ma con il lavoro che fa Kvaraskela, appunto, avvicinandosi molto a Ozymane, secondo me Oliveira, e siccome è quello che vorrebbe anche Ludigar S.A., dovrebbe fare più sovrapposizioni per allargare la squadra, per, diciamo, dare più punti alla propria e ai propri giocatori e meno punti di riferimento agli avversari e avere, appunto, più freccia al proprio arco. Questa cosa qui Oliveira l'ha fatta poche volte, soprattutto contro la Lazio, non l'ho visto fare tante sovrapposizioni. E questo, secondo me, è stato un limite. un limite. Poi, vabbè, Osima Napolitano più largo, eh sì, assolutamente. Poi, la fase di non possesso, invece, la fase di non possesso è così. Allora, il pressing, comunque, alto, ultraoffensivo rimane del Napoli. Secondo me, un po' meno corale dell'anno scorso. Basti vedere anche l'imbuccate. Nella prima partita contro Frusinone era più bassa la difesa rispetto al Napoli di Spalletti. Mentre, contro la Lazio, ho visto addirittura una difesa più alta rispetto al baricentro di Spalletti. Perché ho visto Ramani e Iguonjesus addirittura sulla metà campo, sulla linea di metà campo. Diciamo che è così, è stata un po' così. Allora, la fase di non possesso, la fase di non possesso è questa qua. La fase di non possesso è questa. Allora, inizialmente, inizialmente, Quarasca e Lepolitano stanno alti, pressano alto. Ok. Con Zelinsky che rimane qua a pressare e lo bot canghi sa così. Poi cos'è che succede? Quando salta il primo pressing, o quando comunque il Napoli arretra un po', ok. Comunque continuano a tenere là e a davvero comunque un pressing per posizionare, diciamo, per indirizzare i passaggi avversari. Quarasca e Lepolitano scendono entrambi, ok, a livello di centrocampisti, che in questo caso qui però rimangono, anche sa, e lo bocca. Zilinsky non si abbassa, rimane in pressing come seconda punta a livello di Ozyman. Quindi, in fase di non possesso, il Napoli difende così, con un 4-4-2 con Zilinsky che fa praticamente da seconda punta solo in fase di non possesso di fianco a Ozyman. Questa è un po' la situazione e sono le differenze tra il Napoli di Spalletti e il Napoli di Rudy Garcia. Quello che, diciamo, risale un po' all'occhio è un po' il pressing fatto, anche alcuni contropiedi che ha subito contro la Lazio, alcuni spazi, più che il difensore di per sé, più che Juan Jesus al posto di Kim, che comunque Kim, ripeto, è più forte ed ha una potenza di rinculo diciamo, molto più importante di Juan Jesus, un senso di posizione molto, molto più importante di Juan Jesus sicuramente, ma quello che sale più all'occhio è che il pressing viene fatto diciamo, con lo stesso stile ma non nello stesso modo. E questo comporta che il pressing non sia così corale come lo era l'anno scorso e soprattutto, appunto, dà la possibilità di lanciare a un giocatore di verticalizzare subito. L'altra cosa ovviamente che diciamo la differenza più abissale in questo momento qua tra il Napoli di Spalletti e il Napoli di Ludigarcia è che il Napoli di Spalletti andava molto per i fraseggi di prima per le triangolazioni rapide mentre il Napoli di Ludigarcia punta subito a verticalizzare per Kvaraskela e Ozyman. Questo è il motivo per il quale Kvaraskela l'ha avvicinato molto più a Ozyman per riuscire ad avere due giocatori con i quali appunto dialogare. E questa è un'altra differenza che probabilmente è abissale e che i giocatori del Napoli di Ludigarcia non hanno ancora ben improntato dato che erano abituati ad allenarsi e a giocare in un'altra maniera quando recuperavano il pallo o comunque quando iniziavano il gioco dal basso e quant'altro quindi questa è un'altra differenza che secondo me sta portando qualche grattacapo al Napoli stesso perché non è una squadra probabilmente che può andare così in verticale che è da due o tre anni che si allenava in un modo con Spalletti e cambiare modo di vedere il calcio in possesso della palla e anche in fasi non possesso in due mesi in due o tre mesi non puoi comunque avere una perfezione sicuramente sta di fatto che comunque nel secondo tempo contro la Lazio a me dava la sensazione Ludigarcia di essere uno zema cioè difesa troppo alta pressing fatto però neanche tanto bene poche idee in fasi di possesso in fasi di possesso sembrava la Juventus di Allegri giusto per dirvi e così se tu punti è quello che critico la Juventus di Allegri se tu punti tutto sulla verticalità e trovi le squadre chiuse la verticalità e la profondità non te la daranno mai e quindi devi trovare altre vie e non possono essere solo lanci lunghi e cross questo è il senso che dico appunto anche ad Allegri è quello che non faceva Spalletti perché Spalletti comunque cercava di trovare i pertuggi giusti con il giro palla non lento ma con cambi di diciamo di velocità anche e cambi di passo improvvisi cosa che da Napoli di García almeno in queste prime tre partite non si sono viste questo è il quanto e la differenza che ho notato io poi voglio sapere la vostra tra il Napoli di Spalletti e il Napoli di Rudy García detto questo io vi auguro buona giornata a tutti grazie per la cortesia attenzione probabilmente forse non lo so ci vedremo in live quasi sicuramente dal tridente alle 12.55 e forse stasera alle 18 vedremo perché comunque c'è la pausa nazionale quindi non so se fare una live a settimana quando ci sono le pause mi raccomando lasciate un piaccio lasciate un commento sotto spero che vedano soprattutto questo video molti napoletani che anche la loro opinione mi interessa per me la posizione tra Quaraskaila e Usimè non è neanche sbagliata perché Quaraskaila secondo me ha le possibilità anche di entrare dentro il campo perché non lo consideravo così rapido anche di gamba invece è bravetto anche nello stretto Quaraskaila quindi secondo me non è sbagliata è che secondo me devi lavorare molto di più anche sul terzino sinistro che deve fare più sovrapposizioni se no diventi troppo prevedibile non dai uno sbocco a sinistra a sinistra lasci un buco e Quaraskaila e Usimè poi diventano anche più facilmente marcabili e più facilmente anche fermabili vabbè buona giornata a tutti ci vediamo dopo ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti